Stato 25 anni, siamo a 39 minuti dalla porta. Questa è la posizione di Sipubalisi. Appunto il pallone per Albiola che fa la sponda sotto a Marmalet. Vantaggio del Napoli. Vantaggio del Napoli. Nella golla, Enni Pricos. Sì, sì. Schema, ho visto che chi chiedeva appunto di Insigne che era lentamente il fuorigioco. Però da quest'altra parte è arrivata Albiol che ha fatto un attore perfetto per l'altro. Il giocatore centrale che vengono sempre a saltare. Hanno molti centimetri. Sul secondo palo, vedi, Albiol la rimette in maniera perfetta. Qui non c'è nessuno. Così c'è nel fuorigioco. Sono due da soli. Guarda come li perdono. Sì, ha abito Santis, Vamsic, segna a guarda il vantaggio. Sarà visto il Napoli veramente che era venuto con grandi rimpi. Con grande capacità di giocare in più modi. E qui ovviamente poi ci perso una palla inattiva. Che sono quelle che magari...